Creare una cultura dell'affido familiare, il Consorzio dei Servizi Sociali ambito A5 ha avviato una serie di incontri di formazione presso il Centro Famiglia di Cesinali allo scopo di favorire la formazione di una rete di dialogo e cooperazione sul territorio fornendo supporto alle famiglie con esperienze di affido e adozione difficili e per sostenere chi è pronto ad accogliere minori. Sicuramente l'ambizione del Consorzio A5 che si sta sperimentando in questo difficile progetto intendiamo creare una rete di famiglie affidatarie, quindi una banca dati a livello provinciale per raggiungere poi l'ambizione più grande, l'ambizione più alta che sarà quella di creare un'anagrafe delle famiglie affidatarie a livello regionale. Abbiamo progettato questi incontri dove i protagonisti non sono i formatori ma i protagonisti sono le famiglie che esternano i loro dubbi, le loro incertezze, le paure, le ansie di chi si vuole affacciare a questo nuovo progetto di vita. Per quanto riguarda gli affidi, l'istituto dell'affido ha sempre rappresentato una criticità. Per quanto riguarda le adozioni invece dopo un calo abbastanza forte stiamo riscontrando e stiamo registrando di nuovo una richiesta in aumento delle famiglie che chiedono di poter adottare un bambino.